Nella mia linea di ricerca mi sono occupato di indagare il concetto di impatto sociale definito dalle aziende B Corp nei confronti dei propri lavoratori. Sono andato a definire il motivo per cui le aziende B Corp parlano di impatto nei confronti delle persone. Sono andato quindi a capire perché persone significa che queste aziende non desiderano solamente creare dell'utile ma che l'obiettivo del loro business è la persona e la sua felicità.